Musica Domani pomeriggio alle 16.30 Radio Pace e Tele Pace trasmetteranno in diretta i funerali di Madre Elvira, fondatrice della comunità Cenacolo. La crisi politica del Niger dopo il colpo di Stato a scapito del deposto presidente Basum rischia di lasciare il paese in mano militare, ad oggi non c'è spazio per colloqui distensivi. Celebrato questa mattina il cimitero monumentale di Verona al 150esimo anniversario della morte di Marcantonio Bentegodi, un illustre veronese che ha fatto molto per la nostra città. Buonasera, ben ritrovati dal Tg di Tele Pace. Si terranno domani pomeriggio a Saluzzo i funerali di Madre Elvira Petrozzi, la religiosa fondatrice della comunità Cenacolo, ora diffusa nel mondo con oltre 70 case per il recupero in particolare degli ex tossicodipendenti. Tele Pace e Radio Pace trasmetteranno in funerale in diretta alle 16.30. Al termine andrà in onda uno speciale dal titolo Madre Elvira, nulla è impossibile, addio. Madre Elvira è morta il 3 agosto, ha 86 anni. I funerali si tengono domani a distanza di alcuni giorni per permettere a tanti giovani che vivono nelle case sparse in tutto il mondo di arrivare a Saluzzo. Torniamo ora nel nostro Tg a parlare della situazione in Niger. La crisi politica dopo il colpo di Stato a scapito del deposto presidente Basum rischia di lasciare il paese in mano militare. A oggi non c'è spazio per colloqui distensivi. Francesca Martini ne ha parlato con Roberto Valussi, redattore di Nigrizia. Vediamo. Dopo l'ultimatum scaduto domenica scorsa nella quale la Sede A o la Comunità Economica degli Stati dell'Africa Occidentale chiedeva di ripristinare l'ordine costituzionale, dunque di liberare il presidente Basum, la via diplomatica in Niger, che sarebbe preferibile ad oggi, sembra difficile, visto la chiusura da parte dei golpisti. Una situazione da comprendere assieme a Roberto Valussi. Domani la Sede A o si rincontra per il secondo summit nell'arco di due settimane per cercare di trovare una nuova mediazione. Mediazione che sembra molto difficile perché l'Aggiunta Militare nigerina non ne vuole sapere di relazionarsi di fatto con gli attori esterni. Ieri ha rifiutato di incontrare una delegazione tripartita, una troica, composta da Sede A o, Unione Africana e rappresentanti dell'ONU. Adducendolo alla motivazione dell'impossibilità di garantire la sicurezza della delegazione della troica in Niger. Quindi è diciamo abbastanza sorda a cercare di dialogare. Che evoluzioni ci può essere alla luce di questo panorama dove pare che non ci sia voglia di incontro? Difficile dirlo, chiaramente perché la dinamica è tutta in divenire. Al momento sembra che la parte che si è dimostrata indefessa, inflessibile, che è rimasta al suo posto, è quella dell'Aggiunta nigerina. Che gode dell'appoggio di altri due stati membri della Sede A o, che sono entrati in rottura con il grosso della Sede A o, cioè Mali e Burkina Faso. E quindi adesso c'è questa sostanzialmente contrapposizione tra un blocco che possiamo definire pro-democrazia, con mille virgolette, guidata dalla Nigeria, e un blocco invece pro-golpista, guidata da Mali, Burkina Faso e anche il Guinea Conagri. Qualcuno parla di possibile crisi umanitaria. Ci sono le basi per una sottolineatura di questo genere? Al momento non si intravede il profilo di una crisi umanitaria, che è più tipica di una situazione da guerra civile. Quello che è successo in Niger è stato un rovesciamento politico, una presa di potere militare, però senza spargimenti di sangue. Per ora l'effetto più immediato, per esempio, è che c'è stata una riduzione della fornitura di elettricità nel Niger, che dipende dal 70% dalla Nigeria per l'approvvigionamento elettrico, e quindi tagliata la fonte di elettricità dalla Nigeria, ecco qui che sono aumentati chiaramente i blackout e quant'altro. Si è spento questa mattina mestre Don Armando Trevisiol, a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Aveva 94 anni, fortemente impegnato nel sociale, costruì centri Don Vecchi, suddivisi ora in molteplici strutture. Realtà pensate per anziani e autosufficienti che alloggiano in mini appartamenti indipendenti collegati a spazi e servizi comuni e a iniziative di incontro e socializzazione. Celebrate questa mattina il cimitero monumentale di Verona, i 150 anni dalla morte di Marcantonio Bentegodi, un'illustre veronese che ha fatto molto per la nostra città. A lui è dedicato allo stadio di Verona, a lui è dedicata una società polisportiva che si occupa della promozione di atletica, ginnastica, scherma, pesistica, nuoto e pallanuoto. Al suo nome è legato il mondo dello sport veronese. Stiamo parlando di Marcantonio Bentegodi, esimio cittadino morto il 9 agosto del 1873. Ti ricorderà questa tua Verona che tanto amasti e che ti additerà ai Venturi come uno dei suoi eletti figli. Parole pronunciate durante il funerale di quest'uomo celebrato nel tempio Pius Lacrimis del cimitero monumentale, dove proprio oggi si è tenuta la cerimonia in suo onore e in suo ricordo per i 150 anni dalla sua morte. I tanti ragazzi e tante ragazze che si sono formate non solo sportivamente ma anche umanamente attraverso le attività della fondazione che porta il nome di Bentegodi. Ovviamente fanno naturalmente legare questo nome alla parola sport, ma sappiamo che non è solo sport, è tanto altro per la città di Verona e credo che questa ricorrenza sia anche una dimostrazione, una riconoscenza di quello che ha fatto sicuramente per tantissime generazioni e lo continuerà a fare perché, come sapete, la fondazione Bentegodi è la parte sportiva dell'amministrazione e sulla fondazione Bentegodi contiamo molto anche per lo sport in città. Come nasce questa celebrazione? Nasce proprio in seno alla commissione Pantheon, che è la commissione che si occupa dei benemeriti del comune di Verona, che sono ricordati appunto nei Pantheon presso il cimitero monumentale. Il Bentegodi è stato un grande benefattore, lui è morto appunto nell'873 e questa è appunto una data importante, ci siamo accorti che si festeggiavano appunto i suoi 150 anni dalla morte e la data è significativa perché proprio alla morte, lui è stato un grandissimo e generoso personaggio pubblico del tempo, ma alla morte ha lasciato tutta la sua grande eredità al comune di Verona e con questa grande eredità ha dato impulso allo sgruppo dell'istruzione perché all'epoca c'era un analfabetismo elevatissimo e ha dato impulso appunto allo sgruppo delle scuole anche tecniche e soprattutto ad esempio della scuola agraria. A fine settembre ci sarà una giornata interamente dedicata alla figura del Bentegodi proprio per ricostruirne il suo profilo molto ampio di personaggio pubblico del tempo, dell'unità d'Italia per cui è stata veramente significativa la sua partecipazione all'attività pubblica e questa ricerca ci ha portato anche a ritrovarne la tomba. Aperta la decima edizione del bando fondo Emma Giannesini, Unicredit Foundation e Università di Verona lanciano quest'ultima edizione grazie alla sensibilità del comitato fondo Emma Giannesini verso la memoria della signora Giannesini. Quest'anno è stato proposto un incremento economico delle due borse di ricerca che passano da 35 mila degli anni passati a 50 mila euro ciascuna. Le due borse sono destinate a finanziare progetti di durata compresa tra i 9 e i 12 mesi per progetti di ricerca coordinati dalla Facoltà di Medicina. Le domande di partecipazione devono arrivare entro il 15 novembre. Agosto, tempo di vacanze ma non per tutti. L'aumento dei prezzi degli alberghi, trasporti e ristorazione ha registrato in alcune località un innalzamento del 10%. Quali le tutele per i cittadini? Ne abbiamo parlato con Davide Cecchinato, presidente di Adiconsum Veneto. Vediamo. Costi di pacchetti, vacanze e alloggio aumentati di ben oltre il 10%. In Lazio e Lombardia i prezzi più alti, con a seguire Puglia e Toscana. Gli aumenti certo creano perplessità e difficoltà per le tasche degli italiani. I prezzi sono aumentati e il consumatore agisce di conseguenza. Infatti limita il periodo di vacanze, invece di fare due settimane magari prenota per dieci giorni, fa delle ricerche puntuali sulle varie strutture e approfitta naturalmente delle offerte, anche se c'è da dire che in questo periodo le offerte non si trovano perché è periodo clou. Gli aumenti dei prezzi, a cui oltre all'inalzamento di quelli degli alloggi va sommato il costo dei trasporti, della benzina e della ristorazione, ha certamente causato una diminuzione del turismo, compresa, secondo le statistiche, tra il 20% e il 30%, soprattutto del turismo interno. Che cosa fare per tutelarsi rispetto a questo aumento di prezzi e magari alle poche sicurezze che si possono avere nel periodo della vacanza? Direi fare delle piccole ricerche di mercato, verificare quali sono le strutture più economiche e poi a fronte di prezzi esorbitanti cambiare struttura e magari segnalarlo anche alle associazioni di consumatori per verificare se ci sono i fondamenti per un reclamo o qualche azione di tutela. Ultimamente due sono le mode. Uno, andare nei centri più piccoli, quindi magari meno conosciuti, utilizzare strutture come l'agriturismo, piuttosto che che danno magari meno lusso, ma più vicinanza alla natura, a vacanze diverse. Dall'altro canto, le notizie ci dicono che i giovani in modo particolare si indebitano pur di fare le vacanze. Questo purtroppo è un fenomeno che registriamo anche noi, soprattutto appunto nelle nuove, nelle giovani generazioni che ricorrono al credito per garantirsi quello che è considerato ormai un diritto inalenabile appunto la vacanza. Bisogna stare molto attenti perché il sovraindebitamento purtroppo è sempre dietro l'angolo ed è ormai una piaga per la comunità, una piaga sociale verso la quale bisogna tenere alta l'attenzione. Quindi è bene ricorrere all'indebitamento per motivi non futili ma per motivi importanti come può essere la salute o altro. Ieri sera ha debuttato al Teatro Romano di Verona il Balletto di Roma con Giulietta e Romeo, un successo che da vent'anni gira in maggiori teatri di tutto il mondo con un cast giovanissimo nel ruolo di Giulietta Carola Puddu, acclamata da tanti ragazzi presenti a teatro. Lo spettacolo replica questa sera. È tutto, grazie per essere stati con noi e buona serata.